Se ha più di 50 anni, potrebbe aver ricevuto di recente un invito dal National Bowel Screening Program, che la invita a completare un test FIT. È un test che rileva tracce di sangue nelle sue feci che spesso non sono visibili ad occhio nudo. È una sua scelta fare questo test. Tuttavia, le consigliamo vivamente di farlo, perché è facile e veloce e riduce il rischio di morire di cancro intestinale di almeno il 25%. Le mostriamo come completare il test. Fase 1. Controlli l'etichetta. Il test ha un'etichetta che contiene già i suoi dati. Controlli che siano tutti corretti. Fase 2. Prenda le sue feci. Deve raccogliere le sue feci senza che tocchino l'acqua del gabinetto. Ecco alcuni modi per farlo. Mettere la pellicola trasparente sul coperchio del water. Usare un contenitore vuoto pulito, come un cartone d'uva o un contenitore da asporto. Tenere in mano della carta igienica piegata. O mettere un sacchetto di plastica o un guanto sulla mano. Fase 3. Prenda il suo campione. Sviti la parte superiore della proveta del campione in senso anti-orario. Rimuova il bastoncino e raschi la sua estremità lungo le feci. Deve prendere solo una piccola quantità. Fase 4. Chiuda il suo campione. Dopo aver raccolto il campione, rimette il bastoncino nella provetta. La provetta farà un clic quando è chiusa correttamente. Metta questa provetta nel sacchetto di plastica in dotazione. Fase 5. Si lavi le mani. Fase 6. Invii il suo campione. Infine, metta la borsa nella busta prepagata e la spedisca. Tutto fatto. Riceverà una lettera con i risultati entro due settimane. Fase 6. Invii il suo campione.